Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi siamo tornati su Mario Kart 8 per Wii U Per un nuovissimo torneo, il torneo Speedy Gonzales Cup Ok ragazzi vado subito a prepararmi, scusatemi sono leggermente in ritardo e ci vediamo subito nella griglia di partenza della prima gara Ok ragazzi eccoci qua nella prima corsa di oggi, siamo nella spiaggia di Smak quindi nel mio circuito preferito Perfetto, partenza lenta, devo un attimo riprendere in mano i comandi ragazzi perché da un po' che non gioco Ci sono stati anche dei piccoli problemi tecnici, sono finito in un paio di lobby dove c'era un bel po' di gente Poi purtroppo, non so, sono crashato io, siete crashati voi, non ho capito come mai Sono stato sbalzato praticamente fuori, vai che sono terzo C'è player, devo ricordarmi che qua giochiamo nella modalità 200cc Attenzione che sono davanti a tutti, leggera frenata C'è sempre player davanti a tutti e c'è Mario Tanuki Attenzione, ha toccato il bordo Ok Guscio rosso, wow ho spazzato via un paio di gente, un po' di persone anzi scusate Aiutato anche dal, praticamente dal Attenzione che mi hanno già risuperato Dalla bomba Ok, prendiamo un nuovo power up C'è Niccolò che ha tentato di insidiarmi Tartaruga qua dietro Fantastico Abbiamo anche 10 monetine Ultimo giro, ah il fulmine però Mi ha fatto perdere la tartaruga Adesso devo cercare di prendermi un altro power up Perfetto Ok, la banana La metto qua dietro per proteggermi Sganciamola qua, ne prendiamo un altro di power up Speriamo sempre in qualcosa di buono Monettina Ho preso qualcuno intanto con la banana Ho preso qualcuno, eccolo Eccolo quello che volevo evitare E vabbè, niente da fare C'è Niccolò Ah, ok, no, sono riuscito a prendere il power up Sono terzo, mi sa che il primo è irraggiungibile Ok, ho spazzato via Niccolò Va bene, dai, mi accontento del secondo posto Mi piacerebbe sapere chi è arrivato davanti Vediamo, vediamo subito Abitante Pensate, l'amiibo abitante Mi ha praticamente superato nel finale Niccolò arriva terzo Player quinto Perfetto ragazzi Seconda corsa di oggi Parto dalla pole position Probabilmente player si è tolto Siamo nella pista ghiacciata Oggi è abbastanza lento A selezionare i circuiti È abbastanza lento A selezionare i circuiti Partenza lenta La mia Però almeno ho preso un power up Vediamo cosa mi esce Uh, la testugine rossa Allora, facciamo così Guardate, mi prendo questi qua Magari evito la banana Ecco, non ce l'ho fatta E lanciamo questa Dov'è finito il guscio rosso? È sparito È sparito il guscio rosso Non ci credo È sparito il guscio rosso, eh S velocissime Lanciamo questo Spero di non prendermi E mi sono preso con il mio stesso guscio Non ci credo Ok, almeno è apparso il funghetto Aia Ho beccato lo spigolo Brutta gara Brutta gara signori Brutta gara Mi è arrivato anche un boomerang addosso C'è un pallottolo Bill Che passa a tutta velocità Sono finito Dietro Ho Andrea lì davanti Ok, i funghetti Grazie Me li tengo, sapete cosa? Me li tengo qua un attimo Evitiamo la banana Questa volta Ah, ma prendo Più che altro Prendo gli spigoli In continuazione Non è un circuito Che mi piaccia più di tanto Devo dirvi la verità Questo qua, eh Ok, qui sono finito Larghissimo Dove sono andato a finire? Ok Tagliato tutto Ho tagliato troppo anche Infatti Errori su errori Che mi portano in fondo Alla classifica Sono ultimo Sono ultimo signori Ho preso pure un guscio verde In faccia Non ho capito da dove è spuntato fuori Dopo la bella prestazione Nel primo gran premio Qui sto facendo pietà Ma veramente tanta pietà, eh Certo che se manchiamo anche i power up Però Ok Brutta corsa Brutta corsa Eh, ma la modalità 200cc Devo dirvi la verità Non mi piace granché Perché su alcuni circuiti Secondo me Non è per niente adatta Oh, finalmente un pallottolo Bill Speriamo di recuperare qualcosina Non so quanto mi potrà aiutare Però Eh, dai Almeno la penultima posizione Niente Eh, era già anche l'ultimo giro Niente Ultimo Ultima posizione Vince Giovanni Arriva Simone Terzo Niccolò Quarto Gigi Sesto Andrea Ottavo Matteo Nono Io arrivo purtroppo ultimo Questa qui è la classifica generale Parziale per il momento Perfetto ragazzi Nuova corsa Partiamo dall'ultima posizione Devo già comunicarvi che mi sono stati rubati 15 punti Perché Non ho capito come mai i 15 punti Con cui stato nella prima gara Non mi sono stati conteggiati Brutta partenza Siamo anche nella pista di Donkey Kong Che onestamente non mi piace granché Ok Ok Buono Dai che prendo qualcuno col boomerang Dai che prendo qualcuno Infatti qualcuno l'ho preso Mi prendo il power up Via rospo Ok 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 Frena qua Perfetto Provato a prendere qualcuno con le tartarughe Dai che sono quinto Dai che sono quinto Atterriamo subito Parabolica lunghissima Ne usciamo veloci con i funghetti Ho recuperato Andrea Ho il terzo lì davanti Ok Ho evitato di cadere fuori dal tracciato Perché quello lì è un passaggio Non tanto semplice Andrea mi ha anche dato una sportellata Ho un pallottolo bill Accidenti Ho beccato sia il pallottolo bill Sia il fulmine Incredibile Incredibile signori Incredibile No mi ha rubato entrambi i funghetti Ah ma adesso lo recupero eh Poteva prendere anche la banana Già che c'era Ok Attenzione A queste toccatine Ah peccato Avevo fatto una bella rimonta Adesso sono ottavo Ho perso posizioni Ma ho la stellina Vai di stellina Speriamo che mi aiuti un pochettino Niente Ha smesso proprio Nel momento Peggiore Perché non avevo Non potevo prendere praticamente power up Ok Wario si è auto eliminato Io ho dato una sportellata Ai bordi del tracciato Ok Attenzione Ok Ah no Il pallottolo bill No Mi ha sbalzato addirittura fuori dal tracciato Ok Oh incredibile Sono quinto Uh il pallottolo bill A me stavolta E vai Quinta posizione Va bene Va più che bene Dopo La pessima gara Nella Nella pista ghiacciata Vince Giovanni Secondo Simone Terzo Andrea Poi tutti gli altri A me dovrebbero aggiungere 25 punti Sarei già a 46 Però purtroppo me li hanno cancellati No Scusate 15 punti Perfetto ragazzi Quarta corsa di oggi Mi sono sbagliato Non 46 Ma 36 punti Dovrei avere già adesso Invece ne ho purtroppo Solamente 21 Adesso siamo nello stadio di Mario C'è Giovanni in testa Io purtroppo ho mancato il power up Ecco Questo circuito qua per esempio Va benissimo Nella modalità Grazie Modalità 200cc Ma ci sono alcuni tracciati Che secondo me Veramente Non Non ci si riesce a giocare Dai che recuperiamo Power up Ci abbassiamo Prendiamo questo Curva lentissima Ok C'è qualcuno che si è piantato Attenzione Le tartaruga di Simone Eh lo sapevo Lo sapevo E mi ha preso addirittura Con un'altra tartaruga Poi mi è passato di fianco Niccolò Ok Purtroppo la 200cc Questo qua non posso sfruttarlo In un altro modo Devo aspettare qua Ok Bella curva Però purtroppo Dobbiamo recuperare Perché siamo tanto Indietro Non ho neanche delle monetine Non ho neanche delle monetine Mentre l'abitante Si è Esaltato Ok Passiamo di qua Perché non ho più funghetti Incredibile rimonta Dai Eh ho sbagliato la curva Sono nono Siamo tutti vicini Siamo tutti vicini E abbiamo anche tutti quanti i funghetti Va bene Ottavo Però sono arrivato prima dell'abitante Anche qua E' un altro problema che Nintendo dovrebbe risolvere Sono arrivato prima dell'abitante Però mi considera la posizione Precedente Non capisco come mai Vabbè Non ho visto purtroppo Chi ha vinto questo Gran premio Comunque questa qua è la classifica generale parziale Perfetto ragazzi Quinta corsa di oggi Ho avuto un altro piccolo problema tecnico Siamo nell'autostrada di Todd Sono finito in un'altra lobby Già che ci ero cambiato anche veicolo Mi voglio prendere queste tre Monetine Anzi quattro Perfetto Dovrei avere più maneggevolezza Con Questo veicolo qua Ah ho mancato il saltino Mi sembra anche di essere più veloce Ok Vai di piantina Vai di piantina Dai che ci aiuta Mamma mia come evito i veicoli ragazzi Come li evito io i veicoli Non li evita nessuno Incredibile Sono davanti a tutti Adesso cerchiamo di mantenere il vantaggio Sono velocissimo Sono veramente velocissimo Vai di questo No perché ti sei andato a schiantarti contro l'autobus Perché è andato a schiantarsi contro l'autobus Ecco di nuovo Avevo già dato prima Ok ho preso Giulia Passiamo di qua Stellina Perfetto Ultimo giro Signori Ultimo giro Che è quel razzo È passato un razzo là davanti Dai che voglio almeno il podio Voglio almeno il podio Ok Il secondo e il terzo Li ho lì davanti Mi serve un buon power up finale Mi serve un buon power up Finale Eh i funghetti però È pieno di macchine qua Vai 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 Vado addirittura a fregare il secondo posto Elia Quasi Quasi ragazzi Va bene arrivo terzo Non male Vince Gabri Secondo Elia Terzo io Poi c'è anche Giulia Al quarto posto E poi tutti gli altri sono personaggi guidati dal computer Perfetto Perfetto ragazzi Finalmente siamo riuniti Siamo riusciti a riunirci tutti In una stessa lobby Siamo in 12 Su questo tracciato Siamo in 12 Nessuno mi ha rubato le monetine Fantastico Grazie ragazzi Perché continuo a essere oggi Continuo a essere sbalzato Da una lobby all'altra Purtroppo Continuo a avere Problemi tecnici Non so Neanche io come mai Devo dirvi la verità Non lo so proprio Sono passato nell'unico buco Che c'era Però almeno ho preso qualcuno con la banana Ok Ottima S Una almeno la prendo Di monetina Fantastico Mi becco anche la stellina Mamma mia Con questo veicolo sono velocissimo Addirittura anche troppo veloce Probabilmente Troppo veloce Il primo Non so dove sia Però Per il momento Sono quarto Altro power up No veramente Una cosa assurda Poi con le 10 monetine Ancora più assurda Attenzione Niente da fare Niente da fare Probabilmente Il guscio Me l'ha lanciato Simone Ok Da che ho ripreso Le monetine Me ne manca una Per arrivare a 10 Ok Fantastico Usciamo veloci da qua Bella gara Bella gara Poi sono contento Che la lobby sia piena Di persone Non di bot Ah Fulmine Vabbè Due monetine Vai Bella scelta Ah Sono finito dietro Ragazzi Stavo lottando per il podio Sono purtroppo Finito dietro E sono stato preso Da un pallottolo Bill E Da una stellina C'è papà Che si è piantato Contro il muro Dammi questo Dammi questo Che recupero Un po' di posizioni Niente Brutta gara Signori Brutta gara Sono crollato Nel finale Vince Super Nico Secondo Giovanni E terzo Manu Sono crollato Nel finale Perché potevo giocarmela Per il podio Potevo giocarmi Un posto Per il podio Vabbè È andata così Passiamo alla prossima Corsa Ciao Ciao